Grazie a tutti per tutti i miei contatti per conoscere il mio sponsor se hai bisogno di un accanto con soldi e rango legge attentamente la descrizione del video e riguarda di lasciare un like ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e come avete appena letto faccio un contest di Natale ragazzi in cui vi regalerò 3 account per Playstation 4 non vi aspettate chissà cosa però comunque hanno il minimo indispensabile per poter partire hanno soldi cazzi e mazzi insomma ragazzi quindi poi a cavaldonato non si guarda in bocca e non rompete i coglioni l'estrazione c'è sta il 25.12.2017 o meglio il giorno di Natale perché Maxi Natale arriva a Natale so come Babbo Natale quindi io arrivo a Natale ragazzi i requisiti per partecipare a questo contest ragazzi sono i seguenti come ho già detto ci saranno 3 classificati primo, secondo e terzo classificato e i requisiti sono questi iscrivetevi al canale lasciare un like e commentate con hashtag partecipo ragazzi una volta che avete fatto ciò dovete fare bene attenzione e curarvi del fatto che dovete mettere il vostro canale pubblico pubblico significa ragazzi che tutti possono vedere le vostre iscrizioni tutti possono vedere i vostri video piaciuti qualora venisse a mancare uno di questi due requisiti automaticamente verrete scartati ragazzi se non avete il canale pubblico venite scartati se vi mancano la playlist venite scartati se vi mancano solo le iscrizioni venite scartati dovete avere tutti quanti i requisiti a posto questo è il regolamento questo giallo che vedete sta scritta gialla non so bruscolini ragazzi è una scritta che vi dice quello che cazzo dovete fare e il regolamento quale è ragazzi quindi detto questo aprite il culo buona fortuna a tutti quanti ci sentiamo a Natale per quanto riguarda il contest ciao a tutti ragazzi ciao a tutti